L'arresto di Cesare Battisti è stato possibile grazie all'asse con il Brasile del Presidente Bolsonaro. Lo sottolinea Matteo Salvini, ospite questa mattina a Tg2 Italia. Intanto Di Maio e Di Battista a Strasburgo lanciano la campagna 5 Stelle per le europee. Maria Antonietta Spadorcia e Giuseppe Malano. Ringrazio il Presidente brasiliano Bolsonaro, senza alcun intervento nulla sarebbe stato possibile. E' la grande soddisfazione per aver restituito un minimo di speranza nello Stato e l'impegno a restituire altrettanta speranza ai familiari di altre vittime con terroristi in giro per il mondo che vedremo di andare a individuare e provare a catturare. E' cambiato il clima, il quadro internazionale, è cambiata l'Italia, lo Stato che dice c'è. Matteo Salvini ne è convinto, lo ripete stamattina a Tg2 Italia, sul caso Battisti. Un volgare assassino, sottolinea, nonostante l'appoggio anche di intellettuali e di una certa parte politica. E poi tutto il percorso che il governo sta facendo per garantire un paese più giusto sulla sicurezza, sull'immigrazione, sulla legittima difesa. Eccolo il prossimo provvedimento. Non ci sarà il far west, come dice qualcuno, ma semplicemente il diritto a difendersi in casa propria senza poi passare tre anni in tribunale. E poi gli aiuti è più deboli, quel percorso che non si ferma alla manovra ma viene declinato in altri atti come il risarcimento alle vittime di Rigopiano in Abruzzo, messe in campo proprio dal Ministero dell'Interno. Il cammino porta verso l'Europa e per muoversi serviranno più infrastrutture, anche la TAV. E servirà, ripete Salvini, una nuova prospettiva per la nuova Unione che vuole disegnare insieme agli altri leader. Ripartire dal lavoro e non dalla finanza, dalle banche, dalle multinazionali come ha fatto l'Europa degli ultiani. Un'Europa che va a cambi...